Preparazione per la foto del nuovo cartellone della nuova stagione sarà un delirio Questa è l'intimità No, non ci voglio andare Voglio capelli assipati Facemi capelli assipati Lei o Martina? Ma puoi riprendere? Sei già qua? Martina è sempre a ritardo Il teatro del cerchio Il teatro del cerchio Molti ci chiedono come mai abbiamo questo nome visto che il nostro palco è fatto a rombo Fu una scelta, il cerchio è sempre stata per noi una simbologia, un senso di continuità Un senso di complicità E' un pochino questo noi siamo Negli anni alcuni sono andati, altri sono arrivati Adesso diciamo abbiamo raggiunto in questi 15 anni di esistenza Una sorta di equilibrio familiare Ormai il gruppo è abbastanza consolidato Ogni anno cerchiamo di coinvolgere più persone possibili Nuove persone Siamo molto orgogliosi del fatto che i nostri giovani attori Quelli che hanno partecipato ai nostri seminari Pian piano qualcuno di loro sia entrato a far parte dello staff E addirittura qualcuno lavora in pianta stabile con noi Ecco, questo siamo Una sorta di famiglia che cerca di divertirsi il più possibile Perché fare questo lavoro Oltre al piacere del lavoro stesso e alla fatica che il lavoro ne comporta Deve essere anche un grosso piacere Per cui anche quando per dire dobbiamo fare la foto per il cartellone Per noi è motivo di enorme divertimento E spesso ne nascono degli spettacoli di strada Dove cerchiamo di coinvolgere o viene coinvolto involontariamente Il passante o il pubblico che si ferma ad ammirare quello che stiamo facendo Ecco, il nostro lavoro è sostanzialmente questo Il teatro del cerchio è sostanzialmente questo Un posto dove la gente deve venire e trovarsi bene e voler tornare Io faccio sempre l'esempio degli abbonamenti in palestra Quanti abbonamenti in palestra vengono fatti Non vengono mai utilizzati perché poi alla fine non si è mai convinti Non si ha voglia Ecco, qui si deve venire perché uno ha voglia di venire Non perché deve essere un qualcosa di imposto Oppure devo farlo per forza Qui ci viene chi ci vuole venire E chi non ci vuole restare se ne può andare ovviamente Però ecco, il teatro del cerchio deve essere sempre di più Un punto di ritrovo Un punto fermo Un punto da cui ripartire per nuove esperienze e nuove sensazioni Un punto fermo Ok, dai Ma la stagione 2013-2014, allora intanto vorrei dire che è la nona stagione, quindi ci prepareremo, speriamo, per la decima il prossimo anno. Le novità di quest'anno, sostanzialmente ogni anno le novità sono poi legate a quella che è la programmazione. Avendo partecipato quest'anno a un concorso in box come giurati, avremo tre spettacoli in concorso, due vincitori e uno invece che era finalista, arrivato quindi fino alla fine. Partiremo proprio con quest'ultimo, un Ansel e Gretel il giorno dopo della Compagnia La Fabbrica di Roma, uno spettacolo molto particolare, una sorta di Aspettando Godot riportato nelle fiabe, quindi particolari costumi, particolare la messa in scena, brave leattrici, protagoniste. Dopodiché avremo Punta Corsara, che porterà questo spettacolo vincitore del concorso, sulle periferie, quindi sarà una sorta di talk show teatrale che si rapporterà col pubblico. E Ziguli, della Compagnia Teatro di Lina, che è arrivata finalista anche lei, vincitrice insieme a Punta Corsara, dove c'è questo spettacolo, Ziguli ha un rapporto fra il padre e il figlio handicappato, quindi una tematica sociale, perché noi anche quest'anno comunque preserveremo questa nostra caratteristica del fare teatro sociale, sia con questi spettacoli, sia con il nostro Barba Blu contro la violenza sulle donne che porteremo in giro per l'Italia e speriamo dal prossimo anno anche all'estero. Poi tra le altre compagnie ritornerà ovviamente il nostro amatissimo Cesar Brì con uno spettacolo Anche gli ingenui muoiono d'amore, un classico legato a lui e alla formazione che poi parlerò dopo. Ne altri spettacoli importanti vediamo, abbiamo la Paola Tintinelli che ci parlerà di Mario, non è che l'ho scelto perché porta il mio nome e lo spettacolo, ma perché è uno spettacolo molto poetico. Lei sola in scena, che fa Mario, ma assolutamente uno spettacolo di qualità. E poi tante altre compagnie che verranno a portare il proprio lavoro, avremo di Stefano Cenci Ophelia 4,48, quindi uno spettacolo per l'8 marzo, dove vengono uniti due testi, quello dell'Ophelia di Shakespeare e 4,48 di Sarah Kane, ne viene fuori uno spettacolo assolutamente forte, importante, con una riflessione dietro fatta da Stefano, che è assolutamente un regista di primo livello. Avremo un Vincent Van Gogh della Compagnia Teatro dei Limoni di Foggia, con la quale collaboriamo da anni. Addirittura quest'anno faremo una coproduzione, un Io non sono quello che sono, quindi tratto dall'Otello, un Noiago e un Otello, dove in scena ci sarà il sottoscritto, insieme a Roberto Galano del Teatro dei Limoni, con la regia di Maria Pia Pagliarecci, quindi assolutamente una coproduzione importante con una nuova regia della nostra Maria Pia. Altri spettacoli, avremo Inlix di Milano, che ci porterà questo Esci Stuel, tratto dal testo di Brecht, quindi assolutamente sempre uno spettacolo importante, e poi ovviamente riproporremo le nostre nozze dei piccoli borghesi con la regia di Zanoletti, e ci sarà la nuova produzione con il nostro maestro, quest'anno lavoriamo su Ionesco, e quindi il titolo sarà Delirio, e sarà un misto di vari testi, sempre di Ionesco, dalla cantatrice Calva alla Lezione. Un'avventura nuova che ci vedrà sempre in prima linea, sperando di coinvolgere sempre di più il pubblico, di interessarlo, ma soprattutto di continuare a vivere questo spazio come quello che in realtà è una sorta di piccola casa dove la gente può entrare, può stare e si deve sentire assolutamente a proprio agio. Grazie a tutti! La stagione ragazzi, allora la stagione ragazzi per noi ovviamente è sempre una stagione molto importante con numerosi titoli, tante le nostre produzioni, riproporremo quelle dell'anno scorso, tra cui il Biancaneve, Mino il Tauro contro il Bullismo, e poi ci saranno quelle nuove, nelle nuove produzioni, oltre ad un'alice nel Paese delle Meraviglie che vedrà la firma di Gabriella Carrozza, ci sarà un nuovo spettacolo di Natale per i bambini più piccoli, ma soprattutto un progetto importante, la realizzazione di un viaggio di Gulliver, strutturato in quattro spettacoli diversi, ogni spettacolo rappresenta uno dei viaggi e ogni spettacolo avrà una tecnica diversa, dalle proiezioni, ai burattini e le marionette, alle ombre, al teatro d'attore. Anche quest'anno avremo un sacco di ospitalità, dal teatro stabile di Treviso al teatro stabile di Verona, avremo il TfU di Perugia, insomma ci sono sempre grosse compagnie che da anni, alcune da quest'anno, iniziano a collaborare o continuano a collaborare con noi, anche a testimonianza del fatto che il teatro del cerchio è diventato un punto importante per poter rappresentare le proprie cose, soprattutto le nostre produzioni girano sempre di più per l'Italia, trovando ovviamente grandi interessi. Ovviamente la stagione ragazzi sarà ricca e aperta a tutti, non cambieremo gli ingressi, nel senso che lasceremo sempre i prezzi dell'anno scorso perché la crisi colpisce tutti, anche noi questo è ovvio, però l'insegna sarà sempre quella di migliorare la qualità del prodotto offerto, migliorare l'organizzazione per riuscire a dare sempre un prodotto migliore a tutti quanti, un'organizzazione migliore, una logistica fatta bene per il nostro teatro. Cominceremo, il primo spettacolo sarà la riproposta di Yo-Yo e Molly, Spettacolo senza parole, ormai divenuto famoso non soltanto Parma ma in tutta Italia, portato anche all'estero che quest'anno vedrà il seguito, praticamente ci sarà una nuova produzione, Yo-Yo e Molly avranno un figlio e quindi ci sarà il nuovo titolo che è la scuola dei genitori, affronteremo il tema della genitorialità perché non si è mai preparati e quindi un po' rivedere quelli che sono i luoghi comuni di tutti quanti i neogenitori e il trovarsi nelle difficoltà quotidiane, nelle aspettative che si vogliono per il futuro, che spesso vengono deluse e altre volte invece rappresentano un motivo d'orgoglio. Ecco, la stagione ragazzi ovviamente che porteremo avanti insieme ad altre realtà, altri teatri di cui parlerò dopo perché comunque ci vedranno impegnati anche nella provincia. La provincia, la provincia, la provincia, anche quest'anno dovremo avere la stagione di Langherano, sarà la nostra terza stagione sia per bambini con qualche titolo per adulti e quella di Sissa che si conferma dopo lo scorso anno un appuntamento importante per i bambini. L'importanza delle stagioni nelle province perché il teatro deve essere decentrato, non deve essere una cosa soltanto fatta di nicchia per la città, noi stessi siamo in periferia e non in centro perché comunque bisogna preservare le periferie, il teatro va fatto dove c'è bisogno di teatro, quindi la provincia rappresenta sempre comunque la possibilità a tutti di poter partecipare a delle messe in scene con caratteristiche tempistiche diverse, però laddove non c'è la possibilità di venire a vedere il teatro bisogna portarlo al teatro, la funzione sociale del teatro credo sia proprio questo. E le province da noi diciamo battute sono province assolutamente importanti, vanno dalla collina alla bassa perché è importante coprire tutta la zona possibile e poi ci saranno tante altre realtà che non sono la nostra che riusciranno a coprire altre zone, ma l'importante è fare teatro, andare a teatro e vedere teatro. Io sono un gabbiano, c'è anche lui. Cerca anche quel corpo, c'è anche lui. Adesso è diverso, adesso sono una vera attrice, recito con piacere, con entusiasmo, sul polmascenico Minebio mi sento bellissima. No, esigenza, non fare i passettini, uno, decida. La piccola scuola di teatro si chiama intanto piccola scuola perché vuole essere qualcosa in più dei semplici laboratori, ovviamente qualcosa in meno delle accademie. Ecco, nella nostra piccola scuola di teatro, strutturata su tre anni, uno può partecipare anche solo a un anno, non è che siano obbligatori tutti e tre, però si vuole in questi tre anni dare una base, un percorso che possa poi essere utilizzato dai partecipanti o per tentare la strada del professionismo o semplicemente per aver acquisito le tecniche, anche solo per il puro divertimento e lo stare in scena. Quest'anno, siccome il bicentenario, ovviamente anche noi per scelta aderiremo alle celebrazioni verdiane, abbiamo scelto di lavorare nella nostra piccola scuola sui testi di Shakespeare, però rapportati ai libretti delle opere liriche musicate da Verdi. Quindi cercheremo di unire quella che è l'importanza di una rappresentazione come quella che è l'opera lirica, che comprende veramente nella sua completezza canto, musica, anche ballo, volendo, recitazione, e applicarlo a quello che invece è uno dei più grandi scrittori della storia, che non ha bisogno di presentazione, quale Shakespeare. Ovviamente il tutto insieme a un senso di bellezza, di estetica, di restituire quello che le due cose insieme possono essere più interessanti per una scuola di teatro. Ripartiranno ovviamente corsi nuovi per principianti, i docenti quest'anno saranno da me stesso, sempre Maria Pia Pagliarecci, ci saranno anche Gabriella Carrozza e Maria Roldi, e insieme si cercherà di creare un percorso unico per poi riuscire a veicolare tutti quanti gli esiti finali verso un momento dedicato con una grande rappresentazione settimanale di tutte quante le opere. Ovviamente oltre alla piccola scuola di teatro ci sono i corsi per ragazzi, ripartiranno i corsi per i bambini delle elementari, ripartiranno i corsi per i ragazzi delle scuole medie, ovviamente continua il nostro progetto per i giovanissimi delle scuole superiori che andranno tra l'altro in scena d'ottobre sul percorso dell'anno scorso e comincerà subito dopo il nuovo percorso. E ovviamente ci saranno anche tutti i percorsi tecnici, ci sarà il corso di edizione, vocalità tenuto a Gabriella Carrozza, ci sarà il corso di regia tenuto a Maria Pia Pagliareccia sottoscritto che partirà sia con un secondo anno avanzato che con un nuovo corso base. Dopodiché ci saranno i seminari. Ecco, la parte dei seminari è sempre una parte molto particolare perché ogni anno cerchiamo di dare una formazione diversa e cerchiamo di proporre cose nuove. Anche se quest'anno vorremmo riproporre dallo scorso anno il seminario di scrittura, perché è tenuto da Leonardo Lo Savio, perché è piaciuto così tanto che ce l'hanno richiesto. E ovviamente tornerà per il quarto anno, credo consecutivo, il seminario di Cesar Bri. Importante il nostro affiancamento al regista argentino perché siamo uniti a lui, a parte dall'affetto, ma anche da un senso di stima reciproca. Viene volentieri, noi lo ospitiamo volentieri, ma soprattutto ogni anno riesce a portare un gradino di qualità in più a quello che è il nostro lavoro. Quindi noi siamo sempre molto contenti ed orgogliosi di poterlo ospitare. Insieme a questi ci sarà un seminario su Novecento di Baricco tenuto da Roberto Galano e un altro seminario invece tenuto dalla Monica Bonomi, che l'anno scorso ha condotto il nostro terzo anno avanzato su un percorso sulle parole e musica. Insomma, anche quest'anno avremo tante occasioni per poter far crescere i nostri allievi e non solo i nostri allievi, anche gli esterni in maniera da continuare ad avere un'offerta formativa sempre importante sia sulla città ma anche per quello che è il nostro panorama nazionale. Eh, va, 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 va. Guarda, guarda, guarda. Che film hai? Che cammino? È una pubblicità, sì. Ah, è una pubblicità? Sì. Quando lo si vede? Sì. Oh! Oh! Grazie a tutti.